Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Una blanda depressione atlantica sta interessando il sud Porta un po' di nubi, un po' di pulviscolo seariano alle medie o alte quote Ma nulla di particolarmente rilevante Nel frattempo si rinforzerà momentaneamente l'alta pressione su tutto il Mediterraneo centrale Pertanto nel corso di questo martedì avremo tempo nel complesso stabile su tutta l'Italia Anche in Abruzzo giornata stabile ancora primaverile con cieli sereni un po' ovunque Temperature massime fino a 17 o 18 gradi alle basse quote e lungo le coste Dal pomeriggio nubi in graduale aumento a partire dalle aree più interne Saranno nubi medio-alte che non porteranno fenomeni Però faranno capire che il tempo di lì a breve potrebbe peggiorare E lo farà nella giornata di mercoledì a causa di una nuova perturbazione atlantica Ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti Dal punto di vista termico poche variazioni come vedete fino a 17 o 18 gradi le massime Minime tra 4 e 8 gradi Con questo è tutto, grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti